Senatore Gianmarco Centinaio, la filosofia del Movimento 5 Stelle appare tradita dallo stesso movimento, o meglio dire dai senatori del movimento stesso, perché? Perché ormai abbiamo tutti capito che la parola meritocrazia all'interno del Movimento 5 Stelle è un miraggio. Il movimento che doveva venire in Parlamento e aprire la Camera dei Deputati e il Senato come una scatoletta di tonno, i senatori che dovevano arrivare come uno tsunami e cambiare la politica, si sono adeguati nel giro di qualche mese a quelle che sono le logiche e forse anche i difetti della politica romana. Cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto che da qualche tempo alcune senatrici hanno come propri collaboratori parenti e quindi questo crea un po' uno scandalo, crea una situazione un po' di incredulità, perché avviene proprio da parte di quel movimento che aveva criticato tutta la politica. E quindi in questo momento siamo tutti abbastanza increduli e da un lato abbastanza anche stiamo sorridendo, perché stiamo vedendo appunto quello che avevamo detto, cioè che si sarebbero adeguati alla velocità della luce. La parola aspetterà a questo punto a chi li ha votati e a chi ha pensato di votare e di portare a Roma qualcosa di nuovo e qualcosa di innovativo, non è cambiato niente. Noi della Lega, dobbiamo dirlo e lo stiamo dicendo apertamente da tempo, abbiamo utilizzato la parola meritocrazia, l'abbiamo utilizzata sin dall'inizio, tanto che i nostri collaboratori parlamentari non vengono scelti perché cugini, amici o fratelli, ma vengono scelti solo per meriti e meriti professionali. Quindi questo penso che ne faccia un fiore all'occhiello del movimento. Altri non lo stanno facendo e insieme a tanti altri scandali che stanno saltando fuori, ultimo anche i 1800 euro di spese per abbigliamento che sono stati rendi contati da alcuni senatori nei giorni scorsi, pensiamo che ormai i grillini sono diventati peggio dei partiti politici della Prima Repubblica.